Come fare con il dividere 115 per 4? Il quoziente è 28 e il resto è 3. Il quoziente di 28 diviso 4 è 7, mentre il resto è 0. Dividiamo poi 7 per 4, otteniamo quoziente 1 e resto 3. Infine dividiamo 1 per 4, otteniamo quoziente 0 e resto 1. Abbiamo quindi concluso il procedimento e la risposta è data da 115 in base 10 e uguale 1303 in base 4.